adesso sono venuto giù nel fosso per farvi vedere che sono arrivato da quel sentiero lì da quel sentiero lì giù lì c'è una briglia che dopo vi faccio vedere come le facevano lì c'è il sentiero che va dall'altra parte e poi tutto sopra doccia nelle ex piste questo è il fosso per farvi vedere com'è adesso una volta erano tutti belli vi faccio vedere come costruivano le briglie tutto è secco guardate che spettacolo qualche sasso è caduto ma poi vedete ad arco quindi quando ce n'era poco finiva sempre nel mezzo qui c'è un'acqua limpidissimo e chissà se sono grossissimi alcuni tagliati alcuni no adesso vado giù vi faccio vedere quella di sotto questo sentiero che va su e fa letteralmente pietà guardate qualche casino è possibile manutenzione da 1 10 negli ultimi 50 anni meno 5 ecco qui è quello che era sopra guardate che spettacolo chiaramente probabilmente andava ancora indietro un metro due e qui è come di sotto guardate che acqua limpida ci sono i ragni il gradino quando andava piano che ha fatto il buco scusate andate ha fatto il buco anche questa dette ad arco così quindi è più bassa nel centro che i lati e più indietro nel centro che i lati e poi qui non contenti hanno fatto anche il fianco adesso provo andare la vedere se riesco a fare quella la ma ne dubito perché qui estremamente ripido mi viene voglia di farci il bagno comunque che altro sarà 20 20 centimetri 30